Un grande circo con luci e colori, la musica sa e sa c'è coloro Ma non è che i bambini ci sono Ma non è che i bambini ci sono Ma non è che i bambini ci sono Ma non è che i bambini scusi, ma non è che i bambini Stai tranquilli, guarda che i bambini è una scattatatura Ci sono tutti. Ma non ci sono tutti Ma non ci sono tutti No no, noi abbiamo E' così l'ho Sì l'ho Facciamo iniziale No è che i bambini ci sono tutti E' così l'ho E' così l'ho un impiegato e sa vizzo. Cosa? Chi te l'ha dato? La famiglia Cacabotso per lì. La scultura può parte. Non d'uscita, può parte però. Posso aprire? Le consiglierei di no. Ma sì, voglio aprire. Cosa c'è? Arroni renghera, ne? Ma cos'è? Pure esso? È il subotto del trisnonno del Vincenzino Cacabotso. Ma che famiglia è, scusi? Cos'è quello più barattolo. Quello che fa lì nel Vattro. E ce lo vedo nel barattolo. Stupassa da degenerazione, non hanno mai lavato quel che è questa degenerazione. E non è che la a me, scusi. Se si porta che qualcosa a me ne è meglio. E di poco spacca l'occhio. Ehi, e a noi, dai. E va bene, la verità. Aspetta, se vieni che devo prendere un'altra amica. appena da te la da. ... ... ... E' zaka zaka sui scioletti, nobina di niente. Oh, e tu sei tocchi del violo? Ma sei bovato, eh? E' così brutta. Si, ritrova dei morti viventi. E' così legge un po' la cosa bella luce. Perché non viene a trovarmi a casa? Perché non viene a trovarmi a casa, figli? Deve usare il suo mondo. Ma che sbaglio, non ti dici dei soldi. Scusi, vada a me. Come oggi ostacolare il mio cammino. Pico essere spregevole. Io ti posso trasformare in essere dalla microscopica statura. Dai capelli da cinghiane e con i denti da roditore. Forse l'ho già fatto. Ma che hai già fatto? Ma sì. Cosa c'è? Oggi non sono venuto da sola. No? No. Sono venuta con una mia amica. E chi è questa? Sono venuta con Crudelia de Mora. Si, la conosci? Si, quella della carica di cintura. Hai portato anche i caglioni. No, ho portato due merdoli a portato. Batter. Batter. Fatta. Girano le stelle. Girano i pianeti. E girano anche i fregni. E venano le velo. No lo so. Cosa c'è? C'è una ragazza. Ma cosa c'è? È posseduta. Ma posseduta o la possedere? Lei è posseduta? Lei è posseduta? Ehi, Giovan. Ehi, Gretti, non si preoccupi. Il fanciullo è affetto. No, 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 non si fa così. No, 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 non si fa così. Ma no. Oh, padre. E allora, il fanciullo è affetto dalla sindrome della celopustone. È da fastidio. È molto fastidio. All'inizio è da fastidio ma poi piace. È vero, non è vero? Non lo so. Cosa c'è? Lei è il fratello di Franco Stripoli da Bari. Mi riconoscevo. Padre, questa ragazza è posseduta. Ma come è possibile? Ma come è possibile che sia posseduta questa ragazza? Che cosa è? Ma che cosa? C'ha detto il demone. Il demone. Il demone. Il demone. Allora. Hai fatto un diretto. Dile la verità. Che cosa c'è? 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 Che cosa c'è ma per te se viene in cappella no, non vanno a regno piano 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 ingorta sei ingorta sei ingorta piano 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 ragazzina, vieni qua Allora padre, mi scusi, ma lei con... No, no, proviamo un attimino, proviamo un attimino... Qual è successo? Qual è successo? Ma non lo so da te! Possiamo entrare? Ma si è curta! Possiamo entrare? Torre canta! Venga su voi! Ehm! 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 Ehm, ragazzo! Bella! Ehm! 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 Allora, come ti sta uscendo? Rattico, questo ragazzo è possuto dalle muro. E va fero! Ehi! Quella è! Ma mai c'è la gravata corta corta e lunga lunga! La frase è una bella assade che la bassetta! Ehm! sentire il corpo dietro il bar quanto non esce il gioco eh per favore allora ti ottenghi ma io ce l'ho mai data con la strafazza bene con la strafazza ho fatto il mio primo sapagliera la militare quelle cose facevo fare l'amore ancora bella bella come ha detto il gioco dell'acqua senza i venti c'è la mie chi si chi si chi si la volete alessio no non andiamo non c'è nessuno su messa in scala ehhhh ehhh ehi 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 attenzione attenzione perché lo spiritelo prima di abbastanza della terra potrebbe reincarnarsi in un corpicino di qualsiasi persona, stiamo tutti bene, stiamo bene, stiamo bene, stiamo bene, stiamo bene. Allora tutto è bene, quello che finisce è bene, è vero o non è vero? No! Il maestro Francesco Piani! Bocca fuori alla tre camera! Quindi con un buon punto, ammazzendo tutto l'interno, io vorrei ringraziare di cuore il comitato della festa di San Paolo, ringraziare il comune di Costa Mazzia e tutta la popolazione, grazie, grazie di cuore a tutti, grazie! Grazie a tutti, grazie a tutti, ci vediamo! Si va, si va! Si va, si va!